buonasera e benvenuti al rutto sound questa sera ascolterete questo e poi questo ma anche questo questo per non dire di questo buona serata secondo giro con federico rutt buccioni detto rutherford in onore del premio nobel era una buonissima frase iniziata molto bene e avete rutto ce l'aveva gli è rimasto lì è bloccato un pochino l'emozione allora 16 punti alexina taranto ruttolo anche lui all'esordio quindi ragazzi stiamogli vicino questi ragazzi un bacio dire l'altro si finisce tanto impegno tanta buona volontà è arrivato è arrivato qualcosa dalla giuria scusate un attimo ma è successo qualcosa in quella sede non era non è colpa tua è successo qualcosa in quella sede però ragazzi questo è il rutto sound non è il petto sound quindi fabio roselli attenzione riprova la frase allora 16 punti andiamo avanti con riccardo ferrarini ma ericchi allora girati a favore di giuria aspetta un attimo stringiamo un po i microfoni perché so che prima gustavo voleva che fossero un po più vicine ecco qua quando vuoi rutta per noi o disposto vedo il portafoglio come il cul di peli spoglio allora giuria avrà sicuramente colto quel filo di voce in mezzo al rutto comunque non voglio suggerire comunque gli atleti hanno apprezzato 7 14 21 21 andiamo avanti con sebastian e menegari vedo delle belle ragazze da verona la che stanno incitando sebastian molto bene no lo stanno incitando non eccitando non fra intendendo scaricato la potenza non è nulla senza controllo è grande rutto di qualità di qualità scandito bene un bel rutto complimenti bravo io direi che la giuria apprezzato guarda che voti 24 punti molto bene cristian cataldi attenzione direttamente dalla pista di fiorano peccato non è riuscito a completare l'intera frase con lucas cacchetti secondo giro vediamo la giuria al voto 7 14 19 punti attenzione c'è stato poi discussione nel primo giro per la cura del pubblico il rutto di rutto di rutto di più con calma no no tu preparati io sono qui per incitarti è l'unico attento a mantovano in gara i mantovani si facciano sentire sono tanti sono tanti ma sono tanti in bireria pensa sola allora quando vuoi rutta per noi la giuria è lì sono professionisti del rutto quindi chi meglio di loro potrà giudicare la tua qualità come è bello le car figa da trieste in giù ma se in pozzo di carogna non la leggo più è un grande rutto ragazzi sono combattuti perché in questo rutto ecco attenzione 27 punti e ora la volta di alessio calciolari da medolla modena modenesi fatevi sentire con questa frase tutti i maschietti mi capiranno forse venga dura mai paura venga via pa bene fatta allora vediamo la giuria 9 9 attenzione 28 punti il vero rutto ragazzi è quello che ti viene dallo stomaco se io vi faccio questo è dallo stomaco se io vi faccio questo non è un rutto io la penso così poi fate quello che volete si chiama rutto sound e non vocal sound o petto sound come ultimamente qua dietro sento delle persone strane che e beh la prima gallina è quella che ha fatto il nuovo io sono innocente la prima gallina che canta andiamo avanti dopo alessio riccardo costa ragazzi si sente un alito qua dietro non so chi sia stato ma c'è una puzza incredibile di vino di salame una roba terrificante mi sposto chiedo scusa a max devil ma non so chi sa nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in culo la battita che gioia, che dolore eh ragazzi comunque leggendaria questa frase attenzione attenzione 29 è la volta del ponzer la Corea non ha attaccato perché io ho ruotato attenzione ragazzi allora 28 punti attenzione è Ruth Messirio attenzione il rutto è una scorezza che ha preso l'ascensore il rutto è una scorezza che ha preso l'ascensore vediamo sono combattuti attenzione 29 punti adesso facciamo uno sparezzo perché hanno entrambi 28 punti vediamo chi dei due arriva terzo chi perde arriva quarto allora tocca prima Alessio Calciolari non so che cazzo dire ripeti la prima frase che era bellissima e dila bene se sei d'accordo attento panzer fai un passo indietro perché sennò Camerini non vede perfetto le donne sono come piastrelle più le scopi più sono belle grande prova vediamo attenzione 9 9 9 27 terza posizione per Alessio Masoni molto bene allora chiamiamo in pedana Ruth Messirio e Riccardo Costa allora prima Riccardo a pelle figlio da pollo fece la palla di pelle di pollo tutti i peci per la ragalla anche stavolta gli è mancato proprio il colpo finale quando faccio un berrottino ecco contento anche un grillino direi che una grande frase diciamola con la voce quando faccio un berrottino contento anche un grillino fantastico 29 punti Ruth Messirio vince il Ruth con barato e Grazie.